Allora, e dalle weekend giovane con Fulvio Marini che ritroveremo la settimana prossima, parliamo di qualcosa di serio, un grandissimo appuntamento perché viene tutto organizzato al Casterlo di Padernello, quindi a Borgo San Giacomo, una location spettacolare, vicino a casa tua? Sì. Quanti chilometri? Sarà vicino insomma. Sì, meno di dieci. Allora ce la possiamo fare. Il gruppo donne 8 marzo, che poi un'associazione Onlus, rappresentato qui dal presidente che è la signora Marilena Boselli, buonasera e benvenuta, e poi c'è anche una socia, Piera Forlani, buonasera, e con la presenza e la partecipazione di una grandissima attrice di teatro e non solo, naturalmente la nostra signora Liu Bosisio, buonasera, che torna. Buonasera, che torno, sì. Era già stata con noi? Sì, è vero. Allora, sicuramente tutti voi la conoscete perché naturalmente ha dato molto al teatro, alla cinema e sarà presente con questo grande progetto domenica 10 marzo al castello di Padernello. Il titolo del progetto porta il nome I Corti a corte, perché? Perché? Perché è un omaggio alla carriera alla grande Liu Bosisio e è un omaggio che noi facciamo a questa grande attrice, grande personaggio. Però non si tratta di corti nel mio caso, ma sono dei semplicissimi video che io mi diverto a fare. Ah sì? Sì, quindi è una carellata di questi video. I corti io non sarei all'altezza di farli. Sono dei video che lei costruisce? Che io costruisco, che faccio. Sì, sì, sì. Mi sa una pianta, quindi ne è regista? No, sì, ne sono regista, metto la musica, faccio il montaggio, ma sono cose semplici, dai, che sanno fare anche i ragazzi. Beh, però insomma, i ragazzi lo sanno fare, probabilmente non hanno alle spalle una carriera nel settore del teatro. Non che fosse non si tratta di carriera, si tratta di avere un'età e quindi avere tanti ricordi, tante emozioni, tante cose da dire ancora, tante tematiche, tante problematiche che io nei miei video cerco di affrontare, di mettere. Faccio conto la guerra, per me è la guerra dappertutto in tutto il mondo, in questo momento ci sono centinaia e centinaia e centinaia di guerre, per me è un grosso problema, io non riesco a passare bene la mia giornata sapendo questo e quindi faccio un video sulla guerra, contro la guerra. Certo, quindi quello che potrebbe essere rappresentato in uno scritto con carta e penna lei lo fa con le immagini, faccio delle ricerche sul web, perché pesco miseramente dal web per le fotografie e poi scelgo la musica e cerco di mettere tutte queste fotografie a tempo di musica, cioè è molto importante questo. Ogni nota, ogni cambio, ogni frase musicale corrisponde a una fotografia con il proprio movimento. E c'è un tema particolare per questa giornata appunto di domenica? Un tema particolare? E' la giornata della donna, la festa è più riduttiva, e quando si dice festa della donna è festa di una bambina, è festa di una giovane moglie, è festa di una nonna, in Facebook mi chiamano la nonnina minorenne, a me piace molto, è carino nonnina minorenne. Molto carino, lei comunque con la tecnologia ha un ottimo rapporto mi sembra di intuire. Sì, finché non si deve entrare nei bite, in queste cose qui, perché... Ma per quello ci sono i tecnici, no? Ecco, bravo, di fatto io sono venuto, ho portato il mio notebook, non funziona perché chi mi ha formatato mi ha messo dei tali programmi di protezione che io non posso andare da nessuna parte, quindi domani mattina un tecnico amico... Ci metta anche che lei ha ispirato il sito. Ecco, ha capito. Che domani comunque ritroveremo. Domani io spero che me lo mettano a posto. Domani sarà attivo e quindi sarà possibile visionare questi video che non sono quindi solo autobiografici se non nel sentito quotidiano. È brava, brava, nel sentito, nella mia urgenza dentro. Poi ho anche ironia per cui ho trovato il duetto buffo, ho scoperto che Rossini, dico scoperto perché io sono ignorante in fatto musicale, ho scoperto che Rossini tra le meraviglie che ha scritto, ha scritto una piccola meraviglia, cioè un duetto buffo tra due gatti e questa musica che cantano proprio miau, miau, miau e allora ho fatto una cosa ironica, comica, eccetera, con delle immagini di gatti, ho fatto un po' muovere i gatti e quindi non è solamente tragedia. Capito? Certo. L'associazione Donne 8 Marzo Onlus ha scelto un'attrice di spessore come appunto la signora Biù Bosisio, perché? Perché noi l'abbiamo conosciuta attraverso un nostro amico comune che è Paolo Linetti e ce ne ha parlato, vabbè, conoscendola come attrice, come appunto donna di spettacolo, quello sicuramente, ma poi ce ne ha parlato così ampiamente che abbiamo detto, ma dai facci questo favore, invitala, invitala su, falla venire da noi perché ci teniamo proprio alla sua presenza. Questo per noi il secondo anno, l'abbiamo intitolato I corti a corte perché l'anno scorso avevamo iniziato appunto con dei cortometraggi e la fondazione Ninfe del Castello di Padernello che ci ospita sempre in modo speciale, ecco anche quest'anno ha voluto appunto darci questa opportunità per tenere insieme, mettere insieme un gruppo di persone, eccetera, e condividere con queste persone delle emozioni. Ecco, domenica poi parleremo appunto del tema appunto della donna. E dopo aver appunto visto i video della signora Bosisio parleremo anche un po' di questa situazione così drammatica di queste donne che vengono poi insomma uccise brutalmente all'interno della famiglia, diciamo, da compagni, mariti, padri. Ci sono situazioni terribili che purtroppo non sono lontane da noi, né temporalmente né logisticamente. Spesso delle disgrazie avvengono sotto il nostro piano di casa oppure nel palazzo accanto. La persona che noi pensiamo tanto per bene, insospettabile alle volte. Infatti, è un momento sicuramente di riflessione e la nostra Liubosisio ci ricordava che in realtà sono anche pensieri che lei rende tangibili attraverso le immagini della musica. Sì, sì. Difatti io amo molto il Museo Diocesano, amo molto i quadri esposti. C'è in particolare una figura di un Cristo che a me ha toccato veramente l'anima e parla una che non è, diciamo che sono agnostica. Però questa figura del Cristo mi ha talmente colpito. Allora ho fatto un video sul Museo Diocesano soffermandomi soprattutto sul Cristo e sull'agonia di questo Cristo che è un uomo, è l'uomo, è l'uomo in tutti i tempi, quando per la sofferenza piano piano ci lascia, se ne va. Beh, io dico, se ha toccato tanto me questa immagine che sono al di fuori, penso che un cristiano dovrebbe mettersi a piangere davanti a un'immagine così. Allora, i corti a corte lo si ritroverà, dicevamo, domenica 10 marzo a Borgo San Giacomo al Castello di Padernello alle ore 18.30 con un omaggio a questa grande carriera, la carriera di Liu Bosisio che è stata nostra ospite ed è stato un onore per noi averla qui negli studi di Teletutto. Ringraziamo anche la Presidente dell'Associazione Donio 8 Marzo Onlus, Marilena Boselli e la socia Piera Forlani. Posso dire una cosa veloce veloce? Proprio per gli spettatori, se non hanno avuto la fortuna o l'occasione di vedermi a teatro, ragazzi, io sono la vostra Marge Simpson. Io che do la voce a Marge Simpson. Io non osavo ricordare perché non volevo rompere la magia. No, ve lo dico perché così, ecco, questo è anche il mio lato ironico e spiritoso. Beh, è una bella cosa. Ha fatto bene a ricordare, scusi, anche Spenka, allora possiamo ricordare? Spenka! No, perché noi siamo dei tempi anche di Spenka. Sì, sì. Vuole, vuole, vuole... Yaya bimba! Basta, vado a dormire contenta, Spenka, grazie. Grazie davvero, ci ha ricordato una cosa importante, abbiamo parlato di cose importanti e anche di bei momenti del passato. La mia gioia in Facebook è di tutti questi ragazzi che hanno 40, 45 anni, 20 anni, che mi dicono sono cresciuto con la tua voce, grazie. Posso dire che in regia mi dicono hanno fatto la ola. Ma va? Sì. Grazie, grazie. Allora, mi fa una promessa, io lavoro anche in radio, la posso contattare telefonicamente nella settimana prossima che magari facciamo una chiacchierata anche in radio? Volentieri. Va bene? Volentieri. Grazie mille. Ci lasciamo, grazie ancora, davvero. Ci lasciamo con un piccolo break, tra poco diamo i numeri, i numeri della borsa. Tanto li dai tu, come sempre.